Augusta, carabinieri di controllo del territorio, violazione per 11.000 euro. Sul fronte misure anti-covid, tolleranza zero da parte dei carabinieri della Compagnia di Augusta che hanno eseguito sul territorio di competenza negli ultimi tre giorni diversi servizi controllando un cospicuo numero di persone e veicoli. Oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali alterie stradali cittadine ed extraurbane i carabinieri si sono occupati di far rispettare le misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate negli ultimi DPCM relative all'attuale classificazione di zona gialla della Regione. Nello specifico sono state controllate circa 45 attività commerciali e 233 soggetti di cui 9 sono stati sanzionati con un importo totale di circa 4.000 euro poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza il giustificato motivo ovvero perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale. Durante i servizi di controllo e vigilancia i carabinieri hanno su strada controllato 398 persone e 224 veicoli contestando diverse violazioni al codice della strada tra cui 9 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza 2 per guida con telefono cellulare 4 per mancanza di copertura assicurativa RCA 2 per guida con patente scaduta di validità 1 per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida 4 per guida di veicolo senza revisione periodica 1 per mancato utilizzo del casco protettivo Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 11.000 euro sono stati ritirati 8 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 60 punti dalle patente di guida